Ti condivido una bellissima skill di Moises. Ho caricato una canzone dei Kiss qua sopra, mi appresto a suonarla, faccio partire, provo a suonare... C'è qualcosa che non va, mi dice che sono in me, ma c'è qualcosa che non va, sembra tutto scordato. Questo perché? Perché alcune canzoni non sono state registrate con il La a 440 Hz, ma un po' di più o un po' di meno. Ebbene, Moises riesce a riconoscere questa cosa. Se noi guardiamo qua dove possiamo cambiare la tonalità ai pezzi, vediamo che mi dice in chiave, mi dice in me, e mi dice che la sintonizzazione Hz è 431. Mi dà la possibilità di cambiarla e portarla a 440. Adesso, se faccio ripartire, posso tranquillamente suonarmi le canzoni col basso intonato. Grazie a tutti.